Ok, iniziamo. Qual è l'errore principale da evitare nel mondo degli investimenti? L'errore più grande che tutte le persone commettono, soprattutto le persone delle prime armi che non conoscono questo mondo, è quello di andare in banca e richiedere una consulenza. Quindi è quello di affidarsi ad un consulente finanziario che lavora in banca o che lavora comunque per una mandante, si dice in gergo. Purtroppo questo errore è commesso per lo più dagli italiani. Non lo so perché, forse perché in Italia è alto il livello di analfabetizzazione finanziaria, forse è per questo. Non lo so, comunque tantissimi italiani commettono questo errore. Se hai già commesso questo errore, nel senso che se sei andato in banca e hai richiesto una consulenza per gestire i tuoi risparmi e i tuoi investimenti, e quindi se ti sei avvalso di un consulente bancario, non ti preoccupare, c'è comunque tempo per risolvere. Adesso ti spiegherò tutto, tranquillo, i problemi si possono risolvere. Devi innanzitutto avere consapevolezza di questo errore che magari hai commesso, o forse no, vedremo, dipende dal tuo caso. Però gli errori si possono risolvere, quindi c'è sempre una soluzione, non ti preoccupare. Quindi il primo errore è ad affidarsi alle banche o ai consulenti bancari. Perché questo è un grande errore nel mondo degli investimenti? Perché la consulenza in banca, che ti sembra di non pagare, perché non fai un bonifico al consulente bancario o alla banca, gli lasci solo gestire i tuoi soldi, ovviamente non è gratuita. Da quando è morto San Francesco d'Assisi, nulla è più gratuito in questo mondo. Quindi dovresti chiederti, ma com'è che guadagna quel consulente? Com'è che guadagna la banca? Perché mi fa questo servizio? Perché a tutti gli effetti è un servizio, la consulenza finanziaria. Beh, un mio vecchio mentore diceva, follow the money, cioè segui i soldi per capire i ragionamenti. Quindi proviamo a seguire i soldi. Come funziona? Da dov'è che guadagna il consulente bancario? Da dov'è che guadagna la banca quando vai a richiedere una consulenza finanziaria per farti gestire quindi i tuoi risparmi? Allora, intanto la banca, come abbiamo detto, non guadagna da un tuo bonifico. Quindi non è che gli mandi un bonifico, li paghi, come magari fai per un dottore, un avvocato e così via. Quindi non stai pagando una parcella in questo caso. Com'è che guadagna? Ovviamente guadagna dai prodotti che ti consiglia. In realtà neanche te li consiglia, te li vende. Quindi stiamo parlando di un rapporto, non di consulenza, di un consiglio veramente indipendente, ma stiamo parlando di un rapporto di vendita. Quindi loro guadagnano, sia le banche che i consulenti finanziari che lavorano presso le banche, quindi che non sono indipendenti, si dice in gergo, lavorano da ciò che ti vendono. Quindi se ti vendono un prodotto, cioè se ti fanno investire, ad esempio, 20.000 euro in uno strumento finanziario, loro hanno più modi di guadagnare. E poi li vediamo, cioè ti farò vedere nel prossimo video anche come riconoscere questi costi e capire anche quanto stai pagando a grandi linee. Quindi è già qualcosa di subdolo. Perché? Perché non è trasparente. Il costo che ti applica la banca o il consulente bancario non è trasparente. Non lo vedi, cioè o meglio, non lo vedi diretto. Poi te ne accorgerai nel corso del tempo, forse già magari ne hai preso consapevolezza, sai dentro di te che c'è qualcosa che non va. Quindi quando un consulente ti vende un prodotto, uno strumento finanziario, può guadagnare in più modi. Può guadagnare, ad esempio, dalle commissioni di ingresso, ti può applicare magari un 3%, un 5% per farti investire in quel determinato prodotto, che ti sottrae dall'importo che hai investito. Quindi non è che lo vedi, vedi magari una sottrazione dal tuo conto corrente, no? Un importo in uscita dal tuo conto corrente. Lo vedrai dedotto indirettamente dall'importo che hai investito. In più ci sono tantissimi altri costi come un costo di gestione annua, che anche qua non vedi, ok? Perché te lo prelevano dal tuo investimento, giorno per giorno. Quindi è pure difficile che tu te ne accorga. Quando un consulente lavora così, e quindi guadagna in questo modo, sorge il conflitto di interessi. Perché? Perché ovviamente non farà il tuo bene, sarà portato a fare i suoi interessi. Ovviamente dovrà mangiare, dovrà guadagnare. Se lui può guadagnare da ciò che ti vende, indovina quale prodotto ti venderà mai per i tuoi investimenti, ti venderà quella più alto margine per lui, che magari non fa al caso tuo. Magari non è un prodotto valido, ottimale, che fa veramente al caso tuo, che ti permette di guadagnare. A lui non gliene frega nulla che tu guadagni o meno. Perché tanto lui guadagna così, cioè guadagna da ciò che ti vende o guadagna anche dal turnover di portafoglio, cioè da quante volte ti fa acquistare o vendere diversi prodotti. Più movimenta il tuo portafoglio, più tu pagherai commissioni, pagherai anche delle imposte se stai guadagnando, e sia costi che imposte andranno ad abbassare il tuo capitale. Quindi andrai in sostanza a perdere soldi man mano che passa il tempo. Quindi i costi per le banche, i consulenti bancari, sono subduli, non sono trasparenti, non li vedi. E in più sono altissimi. Si parla qui in Italia anche di un 3% a volte per gestire il patrimonio, o anche in su, quindi anche oltre il 3%. Io ho visto portafogli di persone che pagavano un 5% alla banca. Ci sono persone che pagavano, ovviamente avevano comunque degli importi considerevoli, pagavano anche 30.000 euro all'anno alla banca, tutti gli anni, sia che il mercato andava bene, e sia che il mercato scendeva, scendesse. Quindi sia che loro guadagnavano o che perdevano, alla banca non fregava nulla, loro si prendevano queste commissioni. Quindi è questo il conflitto di interesse. Il consulente bancario è un venditore, quindi non è un tuo amico, anche se magari lo conosci, deve pensare alle sue tasche. Pure se è una persona, e ce ne sono persone valide, che lavorano in banca, per carità, pure se è una persona etica, è chiaro che se c'è il conflitto di interesse, ognuno pensa alle sue tasche. Quindi ti venderà il prodotto, che magari non fa al tuo caso, però fa alle sue tasche. Quindi ti venderà il prodotto a più alto margine. E ci sono tantissimi costi che ti può applicare. Poi li vediamo, ok? Poi vediamo questi costi. Quindi c'è il conflitto di interesse, si dice in gergo. In più, pure se è un consulente bancario, magari una persona, dicevamo, etica, una brava persona, purtroppo, se non truffa il cliente, tramite truffe legalizzate, portate avanti dalle banche, che poi ti spiegherò, se non truffa il cliente, e se non gli applica i costi, se non vende spazzatura, viene licenziato. Perché? Perché in banca, io ho tanti colleghi universitari che lavorano purtroppo ancora in banca, quindi lo so bene come funziona, ma poi con il mio business sono proprio contrario alle banche, quindi lo so bene. In banca ci sono budget di vendita. Immagina un rappresentante, magari lavori nel mondo della vendita, anche tu, e sai come funziona, no? Ci sono dei budget di vendita, quindi l'azienda, che nel caso del consulente della banca, al consulente gli dice, guarda, devi vendermi questo mese tot euro di questi prodotti. Quindi non è il consulente che li sceglie, è la banca, gli dice, gli fa la lista, guarda, a me non interessa, devi vendermi, fa il budget. Se non chiude il budget, o viene, insomma, sgridato, o viene licenziato, dopo un po' li licenziano questi consulenti. Quindi c'è pure un budget di vendita. E ovviamente questa vendita, che gli strumenti finanziari che ti vanno a fare, non sono prodotti efficienti, si tratta solitamente di spazzatura. poi molte volte si può veramente parlare, non scherzo qua, si può veramente parlare di truffe legalizzate portate avanti dalle banche. Ci sono ad esempio le performance fee. Adesso ti spiego. Performance fee. Qui alcune banche, non tutte, però alcune banche le utilizzano per truffare proprio i clienti. Una truffa legalizzata e è veramente una bastardata. Cosa fanno? Che cos'è la performance fee? La performance fee è un'altra commissione che se aggiunge magari le precedenti, di cui ancora non abbiamo in realtà parlato, ne parleremo nel prossimo video, che te la applicano solo se quel fondo che ti vendono, quello strumento finanziario che ti vendono, che non è efficiente e così via, e già è aggravato da costi e via dicendo, va meglio rispetto a qualcos'altro. Quindi se magari questo strumento finanziario che ti hanno venduto, non consigliato, ti hanno venduto, fa una performance superiore, quindi magari guadagna un più 3% rispetto a qualche altro strumento finanziario. Ok? Fin qui dirai, vabbè, che c'è di male, no? Tutto bene, se tanto guadagno, ok. Qual è la truffa che fanno qua? La truffa che fanno è che quel qualcos'altro è qualcosa che guadagna pochissimo, cioè ti dicono, tu investi in azionario, in un fondo azionario, che magari è volatile e può guadagnare bene nel tempo. Ti dicono, se in tre mesi, magari, se in tre mesi quel fondo azionario guadagna più della liquidità, allora ti applichiamo la performance fee, che sarà di tot, sempre in percentuale. è grazie al cavolo. È come dire, ti faccio questo esempio per capire, terra terra, è come dire, corri in pista, fai una gara, uno c'ha la Ferrari e uno c'ha la Panda, con tutto il rispetto, e chi vincerà mai? Vince la Ferrari, almeno che non si schianta, vince la Ferrari. Quindi è ovvio che ti applicheranno anche questo, questo è quando si dice ti piace vincere facile. Qui si può parlare veramente di truffe legalizzate. È legale, lo possono fare attualmente, però effettivamente è una truffa. La performance fee, inoltre, genera un ulteriore conflitto di interesse. Perché? Perché se loro guadagnano dalla tua performance che puoi fare nei tuoi investimenti, allora loro sono portati a farti rischiare di più. Tanto se perdi, va male a te. Mentre se guadagni, guadagni tanto, quindi hai rischiato di più e per ottenere un rendimento maggiore, loro guadagnano più. Quindi questa, la performance fee, già è una commissione che dovresti evitare. Poi parliamo, ripeto, di quali sono queste commissioni. Capisci che se ti avvali di consulenti bancari, se ti avvali di banche, se ti avvali di poste, se ti avvali di promotori finanziari in conflitto di interesse che lavorano presso mandanti, cosa avverrà mai con questo sistema? Cioè se loro, se fai questo follow of the money, se capisci da dove guadagnano, è chiaro che non possono fare i tuoi interessi ed è chiaro che, al di là dei costi che ti applicano e tutto, ti venderanno spazzatura, ti venderanno dei prodotti che fanno proprio schifo, fanno schifo, non sono ottimai, non ti permetteranno di guadagnare un euro nei mercati finanziari. Quindi è normale, se magari hai già investito con banche o con studenti finanziari, magari hai visto il mercato che cresce di 10% all'anno e tu hai guadagnato il 2%. Da dov'è che c'è questo ammanco, questa differenza, questo gap? Indovina? Se ne sono pappati loro, ok? Questo è il migliore delle ipotesi perché se poi magari il mercato è sceso, tu hai perso soldi e ne hai persi ancora di più perché hai pagato queste persone qua, ok? Il problema dei costi, poi lo vedremo con un grafico nel prossimo video, non è tanto il costo in un anno, considerato in un anno, è il costo che va a creare un interesse composto, cioè che si somma anno per anno. Esempio, se investi 30 anni con questo metodo, il danno che fai ai tuoi capitali è veramente ingente. Dopo lo vediamo con un grafico cosa succede. Quindi non è tanto pagare magari il 3% in un anno, è pagare il 3% con interesse composto negativo anno per anno. E questo è il problema. Quello che fa un consulente indipendente oppure una società di consulenza finanziaria indipendente come Atene SCF che cos'è? È eliminare tutta questa spazzatura. Quindi noi non vogliamo truffare i nostri clienti e neanche altri consulenti indipendenti vogliono truffare i propri clienti. Al momento in Italia siamo pochi, sia i consulenti finanziari indipendenti sia specialmente le società di consulenza finanziaria. In questo momento siamo una sessantina. Io, o meglio, Atena, fondata da me, è una di queste 60 società. Qui cosa facciamo? Cambiamo praticamente il modello della remunerazione. Cambiamo il modello della remunerazione. Quindi non possiamo guadagnare e non guadagniamo da ciò che ti consigliamo, cioè da dove effettivamente ti facciamo mettere i tuoi soldi, dove ti facciamo investire, noi guadagniamo a parcella si chiama e possiamo guadagnare solo ed esclusivamente da questo, quindi solo dal cliente. Se noi veniamo beccati ma guadagniamo in altri modi, a parte ci radiano dall'albo, ma ci sono gravi danni, nel senso ci sono gravi danni, quindi non lo fanno gli indipendenti, anche perché siamo vigilati dall'OCF, guadagniamo a parcella. Cosa vuol dire? Per te mentalmente magari ti darà un pochino più fastidio, perché dovrai vedere che un bonifico parte in uscita se ti avvali di un consulente finanziario indipendente o di una società di consulenza finanziaria indipendente. Tu ci paghi, però è qualcosa di trasparente, qualcosa di trasparente, quindi ci pagherai tramite un bonifico, noi guadagniamo solo da questo, dato che guadagniamo solo da questo, noi non abbiamo il conflitto di interesse, perché ti devo vendere prodotti spazzatura, anche perché se non ti faccio guadagnare o se non ti trovi bene con me in consulenza, il prossimo anno non torni da me, quindi non guadagno. Quindi è una situazione win-win ad entrambi, cioè noi abbiamo i tuoi stessi interessi, io ho interesse che tu guadagni, così che il prossimo anno continuerai ad avvalerti dei miei servizi e continuerai ovviamente a pagare, anche qua è il mondo del business, però le commissioni rispetto a queste sono estremamente estremamente ridotte, cioè non pagherai mai un 3%, è veramente follia da cremine applicare questi costi. Dato che possiamo guadagnare solo a parcella, per me puoi investire pure in francobolli, esempio, dopo ovviamente non ti farò investire in francobolli, però non ho veramente nessun problema a consigliarti qualsiasi cosa e qualcosa che ovviamente faccia bene alle tue finanze, alle tue tasche. Quindi questa è la consulenza in conflitto di interesse e questo è l'errore che devi evitare. Magari adesso ti potrà dar fastidio questo video se hai investito soldi così, però è bene prendere consapevolezza, a volte la verità può far male, però è bene prendere consapevolezza dei problemi per poi risolverli. Si possono risolvere chiaramente in più modi i problemi, ci sono più soluzioni, ne parliamo nei prossimi video, non ti preoccupare, non c'è per forza la consulenza indipendente, ci sono anche altre strade e voglio essere chiaro, ti dirò quale strada seguire in base alla tua persona, ma chiaramente questo è un errore che devi evitare, cioè è il primo errore, non commettere questo errore perché non guadagnerai mai dai mercati finanziari, non guadagnerai mai, quindi evita già questo errore.